musica 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 ciao come ti chiami? Alessandra Fortes Silva e dove sei? mio padre è siciliano e invece mia madre è di Capoverde la mia passione per la musica nasce secondo me da un fattore inconscio mia mamma ascoltava spesso Cesaria Evora una cantante che canta la sofferenza la mia adolescenza era divisa con quattro semplici parole, fede, gioco scuola e Cesaria Evora grazie a questa cantante e ai suoi testi ho capito cos'era essere capoverdiani essere appunto africani anche scrivi i tuoi pezzi? compongo dei miei pezzi si e di cosa parlano i tuoi pezzi? parlano... possono parlare di delusioni di amore della gioia di vivere di tanti temi differenti i miei pezzi nascono dalla strada mi piace proprio ispirarmi a delle storie che ho vissuto o delle persone che ho osservato in momenti più di sconforto ho bisogno di scrivere di esternare tutto a tutta questa magari la sofferenza il disagio quando le cose vanno male le esprimo così cosa ci canti oggi? oggi vi canto un brano che ho composto si chiama In Theory I Can't ho molta curiosità bocca al lupo grazie brava per me si grazie 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 era una storia tua o no questa? o una di altre persone che hai vito? era una degli altri era una degli altri e perché ti hai emozionato così una storia degli altri? perché io mi sono immedesimata nella moglie di questo detenuto che pensa che la moglie si stia divertendo senza di lui e invece io ho cantato che non mi sto divertendo ma che mi manca tantissimo e che non riesco a stare senza di lui grazie alessandra doppiamente brava perché una standing ovation per un inedito vale veramente doppio quindi grazie si sei bravissima è una voce veramente molto molto bella il fatto che hai fatto tu una storia come se fosse veramente la tua storia alla fine l'hai cantata con l'emozione molto bello brava grazie grazie mille quello che hai tu è sicuramente quello che cerchiamo nella vocalità nell'espressione nella scrittura mi piacerebbe tantissimo sentirti a lavoro sull'italiano e farti avere l'efficacia che tu hai così nella tua lingua è stato un momento di magia pura ti faccio i miei complimenti grazie grazie allora votiamo per me è assolutamente sì mi dico che sì per me è un grandissimo sì per me sì alessandra grazie grazie mille brava alessandra ciao 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 ragazzi sono alessandro vi è piaciuto il video che avete appena visto e allora andate sul sito di x factor e anche sul nostro canale youtube buona visione grazie